e allora oggi è domenica 20 ottobre buongiorno da Liberato Ferrara buongiorno dalla redazione di per sempre Napoli per la quotidiana rassegna stampa a cui ci occupiamo del Napoli Napoli che ieri ha battuto due a zero il Verona e si è rilanciato in classifica eh chiarisco subito quello che è il mio punto di vista poi andiamo a vedere quello che hanno scritto anche gli altri colleghi eh vittoria meritata perché nel Napoli gioca Meret e non Silvestri e perché nel Napoli ci sono attaccanti capaci di fare gol ma non ci sono nel Verona quindi la somma delle prestazioni dei giocatori del Napoli sarà decisamente superiore a quella dei giocatori del Verona e poi vogliamo parlare della partita in proiezioni future è stato un Napoli che non mi ha convinto per nulla un Napoli incapace di sviluppare la minima manovra un Napoli che non ha un regista e si vede eh ha voglia di dire Ancelotti che non credo peraltro pensi davvero queste cose ma sapete come la penso sulle interviste andrebbero abolite mh un regista nel calcio serve e quando lui dice di preferire giocatori non amare il regista classico ma di eh volere giocatori che sappiano far tutto è una cosa che non ha senso perché chi sa far tutto sa fare anche il regista nel Napoli non ci sono giocatori che sanno impostare la manovra quindi abbiamo questo problema il Napoli fa fatica ad uscire e nel primo tempo è stato schiacciato dal Verona nella metà campo il Napoli faceva un possesso il dato è questo alla fine il Napoli e il Verona hanno diviso il possesso palla tutte e due al 50 per cento con la differenza ci sono le statistiche della Lega che sono impietose da questo punto di vista che il possesso palla del Napoli è stato fatto nella tre quarti del Napoli il possesso palla del Verona è stato fatto fondamentalmente nella metà campo del Napoli il Napoli faceva girare a fatica il pallone tra i difensori non riuscendo a trovare un varco per uscire palla al piede per poi eh andare al lancio lungo ne ha fatti tantissimi merette soprattutto nella ripresa che finivano sistegammaticamente tra i piedi del giocatore del Verona prestazione del Napoli penosa da questo punto di vista con Ancelotti che ci ha messo del suo perché se nel Napoli funzionava una cosa era la coppia di destra Callecon di Lorenzo e lui giustamente ha spostato di Lorenzo a sinistra eh giocatori fuori ruolo ieri ancora una volta tantissimi tutta la fascia di sinistra era con giocatori fuori ruolo era fuori ruolo di Lorenzo era fuori ruolo Iones che non può giocare in quella posizione era fuori ruolo Insigne che non è una seconda punta ma è un attaccante esterno questo è un organico costruito per il 433 mi rendo conto che non si può fare il 433 perché manca un regista un uomo che giochi in posizione centrale che faccia uscire il pallone con velocità però non si dica che è un Napoli da scudetto perché ha tanti buoni giocatori ma non ha una squadra di calcio detto questo l'ho riletto poi nelle analisi devo dire di molti colleghi non nelle dichiarazioni dei giocatori e dell'allenatore questo mi porta ad aumentare la mia convinzione che le interviste andrebbero abolite comunque il titolo qua del Napoli questa è la prima pagina dell'edizione nazionale del Corrierello Sport non ho trovato quella locale è tornato il Napolik per Milik soprattutto ma Napolik mi fa sorridere ecco onestamente io sono diventato insofferente a certi titoli perché sono titoli fuorvianti nei confronti dei tifosi perché il Napoli ieri è stato tutt'altro che un Napolik non era né Paperinik né Diabolik ecco Milik più Meret Napoli ritrovato titolo perfetto Milik Meret è stato strepitoso in tre parate consecutive la seconda è quella più spettacolare ma la terza vi posso garantire avendo giochicchiato in porta tanti e tanti e tanti anni fa che è difficilissima perché al terzo tiro sei completamente in apnea non hai forza lui ha avuto la capacità di rialzarsi e di posizionarsi nel modo migliore è stato colpito sostanzialmente dalla tira dell'attaccante avversario ma lui si è rialzato da terra in maniera felina e si è messo nella posizione corretta Meret purtroppo è capitato insieme a Donnarumma che è un portiere straordinario ha una fisicità straordinaria la Meret ha più tecnica è un portiere eccezionale deve imparare a giocare di più con i piedi ma tra i pali e anche nelle uscite ha bisogno ancora di potenziarsi da un punto di vista fisico deve mettere muscoli però stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni assolutamente strepitoso commetterà ancora degli errori perché li commettono tutti i giovani portieri fa parte del processo di crescita ma stiamo parlando di un giocatore assolutamente straordinario purtroppo si ritrova con Donnarumma che ha meno tecnica però ha una fisicità una cosa straordinaria e Donnarumma ha quello manca Meret soprattutto Donnarumma tra poco compirà 21 anni e a 21 anni si trova con cinque anni di Serie A alle spalle eccetera eccetera Meret è sostanzialmente al terzo anno di Serie A ma i primi due anni li ha giocati a causa di infortuni a scartamento ridotto spero che adesso Ancelotti la finisca col turnover anche tra i pali perché questo è un ragazzo fenomenale che ha bisogno di fare esperienza e l'esperienza te la fai giocando quante più partite possibili. Ieri è stato assolutamente il migliore del Napoli nonostante i due gol di Milik. Ho visto che quasi tutti i colleghi nelle pagelle hanno dato a tutti e due sette e mezzo dovendo indicare il migliore in campo è stato indicato quasi sempre Milik. Io dico Meret perché Meret ha fatto tutto quello che doveva fare. Milik poteva fare qualcosa in più, ha sbagliato qualcosettina. Poi quando un attaccante fa due gol c'è poco da dire. Fare gol abbiamo sempre detto che è la cosa più difficile. Però Meret ieri è stato assolutamente strepitoso. Andiamo avanti. Arek si divide tra le due padre. Ho fame di gol e qui sto bene. Così mi piace Insigne. Allegra credo che sia una dichiarazione di Ancelotti. A me ieri Insigne non è piaciuto. Non è piaciuto non per colpa di Insigne che non è piaciuto perché non ha giocato nella sua posizione e ha fatto fatica anche questa volta. Può incidere molto di più. Il Napoli ha cinque esterni fortissimi però gioca senza esterni d'attacco. Raggelle con Coulibaly niente paura. Veloso leader per il Per il Verona. Veloso mi è piaciuto molto ma tutto il Verona mi è piaciuto molto però è una squadra che ha carattere personalità. Ha un bel sistema di gioco a un allenatore che si fa sentire e si vede. Manca di qualità e questo fa la differenza. Coulibaly non è stato straordinario ieri. Non è stato straordinario neanche Manolas che però va molto più per le spicciole. I due migliori del Napoli sono stati nella maniera più assoluta. Meret soprattutto e a Milik ho detto. Ho visto qualche insufficienza ad Alan che se uno analizza la prestazione di Alan dove ha giocato l'insufficienza ci sta. Ha sbagliato troppo. Però Alan non è un regista. Non può giocare in quel ruolo. Non ne ha le caratteristiche. Non ne ha i piedi per fare il regista. Non può giocare da centrale davanti alla difesa. Lui è uno che alza il pressing. È bravissimo a recuperare la palla però non può giocare in quella posizione. Nel Napoli non c'è nessuno che può giocare in quella posizione. Questo il dramma però prendersela con i giocatori non con chi ha fatto il mercato perché non serve prendere un giocatore che costi 50 milioni. Bastava prenderne uno che ne costava 10-15. C'era Pulgar che aveva un clausolo a 12 milioni. L'ha preso la Fiorentina. Non è un fuoriclasse. Non è un giocatore all'altezza degli altri che ha il Napoli ma santa miseria serviva al Napoli come serviva come il pane come si racconta sempre che l'uomo chiave per lo scudetto dell'87 fu romano in una squadra di fenomeni autentici. Il giocatore chiave fu romano perché andò a coprire quella posizione che nel Napoli non c'era. Il Napoli continua a non averla. Mi fa specie come un allenatore come Ancelotti non lo abbia preteso. O magari lo ha preteso, non lo ha avuto. Però quando dice che è stato accontentato, che ha condiviso le scelte, che è un mercato da 10, si prenderà tutte le mie invettive perché una squadra senza un uomo d'ordine non va da nessuna parte. Si dirà mi piacciono i giocatori eclettici che sanno fare tutto. Perfetto. Nel Napoli non c'è nessuno. Non c'è nessuno che sappia fare quella cosa che è fondamentale nel mondo del calcio. Quindi Ancelotti lo ribadisco ai miei occhi anche se sono straconvinto che non è stato accontentato nelle sue richieste sul mercato fino a quando dice che è stato tutto, è andato bene un mercato da 10, sarà il primo e il maggiore, l'unico responsabile di una squadra che non ha gioco. Gazzetta dello Sport, c'è il Napoli da qualche parte, se non mi ricordo male, in un richiamo sul, in alto a sinistra che parla della vittoria. Però il Napoli chiaramente sta sparendo dalle prime pagine dei giornali nazionali ed è inevitabile dopo anni da protagonista. Ci sono alcune squadre che hanno tanti tifosi per cui saranno sempre protagonisti sulle prime pagine e quindi il Napoli sparisce, carica Milan, il Milan è ridicolo in questo momento. Comunque, andiamo avanti, la prova del nove, il Napoli ritrova gol e c'entra avanti quello che manca al Verona di Juric. Questo è il titolo, ho letto l'articolo e mi trovo molto su quello che ha scritto l'inviato della Gazzetta dello Sport, è un Napoli che ha vinto meritatamente per la qualità dei suoi giocatori, ma a livello di gioco non ci siamo proprio. Anche qui il migliore in campo sono stati Milik e Meret, è stato indicato Milik, io avrei dato a Meret mezzo punto in più. Voglio anche accettare il 7 e mezzo dato a Milik, però forse a Meret qualcosa in più, non mi trovo sul voto dato all'allenatore che ha preso la sufficienza da parte di tutti. Secondo me ancora una volta è andato in, ha mandato in confusione la squadra. L'unico, il giocatore più in forma del Napoli, di Lorenzo, è stato reso sostanzialmente un giocatore normale perché portato a sinistra non ha potuto dare la sua spinta strasolita. Andiamo ancora avanti, sempre la Gazzetta dello Sport, Milik chiede strada, ho tanta voglia di giocare e di segnare. Ancelotti respira, abbiamo sofferto, per noi è Arec, il vento è cambiato. Dico un'altra cosa che è un po' in contrasto con quello che ho detto sin qui, ma fondamentalmente poi chi vuole capire capisce. Una vittoria come quella di ieri, meritata perché alla fine la differenza l'hanno fatto i giocatori, ma terribilmente sofferta contro una squadra che come qualità degli uomini è da retrocessione, alla fine può fare morale, il morale è più importante ancora della tecnica e della tattica in una squadra. Era un Napoli che aveva perso sicurezza, questa vittoria può aiutare. Però adesso c'è un banco di prova terribile a Salisburgo dove il Napoli per colpa sua, perché dopo aver vinto contro il Liverpool non è stato capace di vincere contro una squadraccia come il Genk, Napoli rischia di giocarsi la qualificazione in questa partita, perché col Salisburgo se fa solo tre punti, cioè perde in Austria e vince a Napoli, rischia di andare fuori perché all'ultima partita poi ci sarà in Austria Salisburgo Liverpool e il Salisburgo probabilmente quella partita la vincerà e credo che il Salisburgo possa anche andare a vincere a Genk, perché a Genk dovrebbero vincere tutte le squadre. Quindi Napoli si gioca mercoledì grande parte della qualificazione, è decisamente più forte del Salisburgo, però il Salisburgo è una squadra ostica che corre molto e ti mette in difficoltà, è un Nap ti pressa molto, è un Napoli che non ha assolutamente giocatori in grado di far uscire in maniera pulita la palla dalla propria metà campo, fa fatica, pur risolvere il problema solo in una maniera, facendo una difesa molto bassa e compatta, ma non ha i centrocampisti per farlo, e poi giocando lungo sull'Orente, sperando nella spizzata, semmai con gli inserimenti degli attaccanti esterni. Non lo so Ancelotti come intenderà giocare, qualche volta in Champions ha giocato con la difesa a tre, però in quel Napoli, in quella Champions c'era Amsic che non era un regista, ma che più o meno poteva cavarsela. Nel Napoli di quest'anno non c'è assolutamente nessuno in grado di giocare in quella posizione. Andiamo avanti, tutto sport, Milik ritrova il gol, il Napoli la vittoria, il mattino Milik digiuno finito, due golle, il Napoli cancella gli incubi, non li ha cancellati fin qui, perché il Napoli personalmente non mi è piaciuto per nulla e ho letto poi più o meno tutti hanno visto la partita e poi quella è stata, non è che ci vuole chissà che cosa per capirlo, però può darsi che poi gli incubi siano cancellati e ci sta una riscossa. Sarà fondamentale la partita di Salisburgo. Vediamo le pagine interne del mattino, Napoli riscatto Milik, sempre Meret salva tutti, Iunes è troppo fumoso. Su Meret sono perfettamente d'accordo, un portiere straordinario. Iunes troppo fumoso è vero, però Iunes non è un centrocampista, Iunes è un attaccante, farlo giocare a centrocampo è un delitto. Andiamo avanti, Milik adesso voglio segnare in Champions, Ammen, Carlo Allamula, doppietta di Arek, mica sono un pirlo, se sta bene gioca. Il problema non è Milik, non è Lorente, non sono gli attaccanti del Napoli, non sono i difensori, non è nessun giocatore singolo del Napoli, sono tutti buonissimi giocatori. Non voglio dire sempre la stessa cosa, il Napoli non ha una squadra completa. Il problema del Napoli è di chi ha fatto questa squadra e poiché Ancelotti, ribadisco questo concetto, ha pubblicamente detto che la squadra, la società ha seguito tutte le sue indicazioni, anche se non ci credo, devo prenderla per buona questa dichiarazione, dico che il problema del Napoli è Ancelotti. Corriere del Mezzogiorno e con questo chiudiamo la segna stampa sul Napoli, Milik, felicità, ora sta bene, è un gratte attaccante, Ancelotti si coccola Arek e scherza su Ibra al Napoli. Ok e con questo abbiamo concluso, l'appuntamento è per domani.